Entro la fine del 2024 a Terranova Bracciolini in provincia di Arezzo sarà operativo il primo impianto per il trattamento dei RAE, i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo il via libera della regione tuscana il gruppo IREN creerà un polo dedicato all'economia circolare che oltre a sviluppare questa zona del Valdarno faciliterà lo sviluppo di sinergie industriali con il distretto orafuaretino dove confluiranno i metalli preziosi che saranno recuperati da questi rifiuti. Sono particolarmente orgogliosa di poter presentare questo impianto frutto di un lavoro fatto insieme ad IREN, è un impianto che era stato proposto nell'ambito dell'avviso pubblico esplorativo che è stato alla base del nuovo piano dell'economia circolare, è un vero e proprio impianto d'economia circolare quindi risponde appieno all'avviso che la regione ha fatto e alle nostre aspettative. L'impianto una volta al regime sarà in grado di trattare oltre 300 tonnellate di schede elettroniche all'anno ovvero la quantità di rifiuti RAE che produce la Toscana, da qui usciranno ogni anno più di 200 kg di oro e altrettanti di argento oltre a rame e palladio. Siamo molto soddisfatti di questa decisione di investimento perché è il primo impianto in tal senso che vediamo nascere nel Valdarno, va verso la costituzione di un distretto di economia circolare, verso la green economy, quindi temi molto sentiti e questa sinergia è stata fruttuosa con il gruppo IREN e con la regione toscana perché ci permette veramente di far diventare lo scarto un valore che è la prospettiva che anche le amministrazioni pubbliche hanno adottato e stanno perorando. Si tratta del primo impianto che in Italia andrà a trattare i rifiuti RAE attraverso un processo idrometallurgico a ridotto impatto ambientale con un consumo energetico contenuto e a bassa produzione di CO2, caratteristiche che lo portano a diventare una buona pratica per la transizione ecologica nel nostro paese. La realizzazione di questo impianto è stata possibile grazie ad un investimento di 5 milioni di euro da parte del gruppo IREN. Siamo molto soddisfatti di iniziare la realizzazione di questo impianto perché è nato sostanzialmente dalle relazioni territoriali, quindi siamo venuti in rapporto con alcune strutture e aziende del territorio, parlo di BTT e USAI che sono due aziende dell'Aretino e da questo si è lavorati insieme per costruire un progetto che consente di realizzare un impianto unico in Italia che è un impianto per il recupero dei metalli preziosi dalle schede elettroniche principalmente che provengono dai RAE.